E a pochi santi dalla conclusione, una setta che ha vinto un congiore su pista, vince Togliano, Ben Swift del Fischiai. Grande affermazione per questo corrisore. E a pochi santi dalla conclusione, una setta che ha vinto un congiore su pista, vince Togliano, Ben Swift del Fischiai. Ben Swift, lo scorso anno, proprio in questa tappa, avevi perso la maglia di leader. Oggi è la tua rivincita, tappa e maglia, una giornata perfetta per te. Sì, una giornata perfetta, anche se con la pioggia che c'è stata oggi è stata davvero dura. Lo scorso anno abbiamo fatto una bella corsa, io e Peter abbiamo vinto una tappa, ed io oggi ho vinto ancora. È la mia prima vittoria in solitaria e non sono uno che vince le gare dure, quindi la forma è davvero ottima. Vengo dalla Milano Sanremo, che per me era un grande appuntamento, quindi significa che sto attraversando un ottimo periodo di forma. Una giornata che potremmo vivere nel loro discorso, grazie a tutti i giorni di Red Sport 2. Ben Vita, già pochi santi dalla conclusione, una setta che ha vinto un congiore su pista, vince Togliano, Ben Swift del Fischiai. Ben Vita, già pochi santi dalla scuola, ben Vita, già pochi santi dalla scuola, ben Vita, già pochi santi dalla scuola. Ben Vita, già pochi santi dalla scuola, 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 ben Vita, già pochi santi dalla sc